Questo video è sponsorizzato da NordVPN, vai sul sito che trovi qui in sovrimpressione in descrizione e inserisci il coupon POLIVPN per avere uno sconto esclusivo e un mese aggiuntivo gratuito sul piano biennale. Non ci sono rischi grazie ai 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati di NordVPN. Annamo! Allora, io non so come si giochi questo mazzo. Questo mazzo, io non so come vada giocato. Roccara la teniamo? Perché siamo pieni di drop a 2 o 1. Cavalca granchi, turno 2, turno 3, Roccara, MVP sta cosa, eh? MVP sta cosa? MVP sta cosa? Primo game, così? Di botto? Senza senso? Madonna! Cosa ha fatto lui? Ha fatto coin ping? Chi è che suona adesso? Ma non si può giocare in questo gioco di merda! Cavalca granchi, trade trade, no? Roccara. Aspetta, aspetta che devo andare a aprire la porta. Chi cazzo c'è adesso? Mi è arrivato un pacco. Aspetta che devo ridurre la ruota. Bravi, che me l'avete ricordato perché è ancora enorme. Bravissimi. Bravi, vi vedo molto attenti ragazzi, vi vedo molto attenti. Minchia, doppia Roccara sarebbe OP. Però faccio cavalca granchi in tua, nebito? No, perché poi giocheremo l'arma. Che palle! 3 di attacco hai dovuto mettere, faccia di cacca. Roccara trade, perché se io faccio cavalca granchi... Potrei ammazzare lui però. Giobbo merda. Senti, va bene. Non andiamo in curvo, ma facciamo così. È troppo forte sta cosa, regà. Non andiamo in curvo, ma facciamo così. Perché lui non lo gioco, perché il prossimo turno farò arma. Sennò sto qua mi spacca l'arma che io voglio tenere. Minchia Roccara è sbagliata. Minchia Roccara è sbagliata. Io l'avevo detto che Roccara era broken. Regà, è GG. Vinta. Vinta. Vinto il game. Easy. Ma che cazzo è sta roba? No, ma Roccara, Polly, non è forte. No, ma Roccara. Polly è esagerato su Roccara, eh. No, Polly, guarda chi è proprio esagerato su Roccara. Secondo me Roccara non è così forte, Polly. Ci sono carte più forti in questa espansione. No, no, ma ti do ragione. Ti do ragione. Cosa vuoi che sia? Power of the Wild tutti i turni. Due volte. Cosa vuoi che sia alla fine? Ma che f... Questa fa... Eh, voilà. Allora. Questa è già più intrigante. Lezioni di taglio si potrebbe tenere. Turno 1. Turno 2. Turno 3. Coin turno 4. Ci sta? Ci sta. E poi cos'altro posso già estrarre? Beh, i premi alleanza li ho segnati qua sopra. Devo assegnare i bronzi, gli argento, gli oro e i forgiati. Va bene. Ok, siamo già a mezzanotte. Va bene. A mezzanotte era normale arrivarci. Ok. Va bene. Noi dobbiamo tenere la curva però. Prostimo turno è cavalca granchi. Traviamo con l'121 di merda. E poi si sveglia l'arma, lezioni di taglio e il turno dopo è Elite Corcron. Madonna che forte che è lui. È molto solido come mazzo. Non lo avrei mai detto ragazzi. Vi dirò. Non avrei mai detto ma è molto molto solida la lista. È un po' una merda perché delle volte ha troppe cose tipo troppe armi o cose. Lui di turno 1 è fortissimo. Solo di turno 1. Di turno in poi già meglio. Ci sta. Ci sta. Sai che se Solarian esce in fuoco brado mentre sei lock e il tuo hero power ti fa 3 danni? Cazzo fighissimo. Oh merda. Oh merda. Aspetta c'è Get Down ma non c'è Redemption. Rapidness non si gioca. Avenge non si gioca. Cioè se Avenge va benissimo. Madonna. Bello. Che forte è questo murlocchino di merda? Lo vuoi in Zot Town Warrior? Allora giochiamo prima una classe alla volta Filippo. Poi arriveremo anche a Anzat. Ovviamente. Arriveremo agli stessi mazzi. Le stesse classi. Ok. Questo tra da lui. Allora. Domanda. Perché c'è Oma Yogg? Oma. 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 Ci sarebbe Oma Yogg. Da starci attenti no? Get Down. Avenge. No raga. Quello è Oma Yogg per forza. È Oma Yogg per forza quello. Oma Yogg per forza. Perché non è Avenge o Get Down. È solo quella. È Oma Yogg e quello del 3-4 raga. Rat Trap e Oma Yogg. Rat Trap e Oma Yogg. Questo è Innervate sempre no? No anche Turbinio c'è. Ho fatto un errore. Minchia che palle sto 3-4 di merda. No non è un errore raga. Non è un errore. Non ci posso fare un cazzo. Non ci posso fare un cazzo a questo. Non è un errore. Minchia sti segreti. Madonna. Il problema vedi che lui non pesca. Il problema è quello che già sapevamo esserci. Cioè che quel mazzolino a certa finisce. Cioè lui ha già finito le copie di segreti per dire. Allora questo è Avenge tutta la vita. È una palla raga quel segreto di merda eh. È una rottura di coglioni importante. Avenge. No speravo si attivasse lo stesso. Speravo si attivasse lo scudo divino prima. Ok. Ho fatto un errore. No non è un errore raga. Questo non è un errore. Allora io ho giocato zero carte. Quindi andiamo di combina guai. E di eh ragazzo ubriaco. Perfetto. 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 Bello 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 bello. Che altri mazzi ti sei preparato? Non ne ho preparati tanti perché vado a braccio praticamente. Man mano che li vedo io li metto. Man mano che li vedo io li gioco. Grazie mille a te. Come sempre è super gentile. Cazzo non avere minion con rush è una palla qua. Giochiamo morsla e... Che l'hunter sia divertente. No l'hunter non è proprio divertente. Cioè questo è più forte dopo però. Ci muore lui ma non mi va bene. Io ho giocato zero carte. E sto turno quindi una, due. Non te lo attiverò mai sto 3-4 di merda. Non te lo attiverò mai pelle. Palla man. Palla man. Palla man. Palla man. Palla man. Spella 4. Mano di Adal. Fortissimo. Sto minion qua è fortissimo. Sto minion qua è fortissimo. Giobbo merda. Giobbo merda. Sempre e comunque. Ok. Forte lui. Io ho giocato dei minion con rush. Sì due. Cioè con frenzy. Sì due. Sono loro due. Ok questo è un turno del cazzo. Però mi viene data l'arma sto turno no? Che arriva anche oma iog mi sa sto turno. Che palle! Ok. Perfetto. Cribbio. Cribbio. Eh io ho fatto un errore. Ma dai che cazzo. C'è non è forte ma rompe il cazzo quel mazzo di merda. Mi sta rompendo i coglioni quel mazzo. Ho giocato una carta io. Giobbo merda. Dio caro. Cribbio ciao man. Che figlio di puttana. Qua avevo la giocata bellissima io. Vabbè. È andata bene lo stesso. Ma raga ma finisce la benzina subito quel mazzo lì. E se gli tradi l'early game. Sbaglio finisce la benzina subito appena gli tradi l'early. Cioè ok lui ha 15 carte lefta. Però ha finito in realtà. Cioè adesso Tom e iog. Cioè io vabbè sono altissimo di vita ma adesso board contro le 5 carte di vantaggio. Allora boni boni boni. Allora Artel 3-4. Omayog li ha giocati. Quindi immagino che sia il nuovo minion. Sto qua mi dà doppio minion con Divine Shield no? No perché non è ancora morto questo. Quindi deve morire sto ragazzo prima. Però lo stesso fa i Sofrang. Qua è troppo forte. Avenger deve ancora attivarsi. Quello è il modo migliore. Qua mi sa che il modo migliore è fare. Trade. No trade. Si attiva Avenger e Trado. E dipende che cazzo di segreto è. Avenger per forza. Quello là è il 3-4 di merda. Io ho giocato 0 carte finora. Una. E due. A posto. A posto. Belli eh. GG. GG. Ma basta. Adesso in poi è tutta discesa. Adesso lui non si ripiglia più. Bella. Ma è una me... Mi sembra una merda a me quella. Almeno la sua lista mi sembra una merda. Secretin. Bisogna provarlo il Secretin. Mi servono i droppi a uno. Ma raga dai Roccara. Dai con Roccara. Però ci va quell'1-3. Però no perché è lo stesso mazzo dove c'è Faucisaure. Questo è buono. Ovviamente pezzo a uno. Ma la 1-1 con Divine Shield Town te la giocano tutti i paladini di sempre eh. Del mondo. Sì sì lo so Filippo che dove strarre. Infatti lo faccio al ridosso del cambio di questo mazzo. C'è assoluto... Erco Diaz che culo! Dai Messere! Un po' sculata questa eh. Non posso costruire qui. Ehm... Conviene fare tutto dopo. Conviene fare tutto il turno dopo. Roccara e me... Roccara. Mezzo d'autoscontro con la coin no? No il cazzo. Roccara e scopa. Nooo non ti uccido. Sì si faccia lui e scopa. Scopa trada. Roccara uccide. Rimane vivo lei. Con 3 di vita però. Gioppo merda. Sempre e comunque. Se io facessi coin combina guai. Se no ero cara. Coin. Eh vedi però il problema è che... Poi il turno dopo cosa faccio? Combina guai. Combina guai di merda. E che è molto forte anche lei con l'oro. Non posso costruire qui. Devo tenerla sta scopa. Devo tenerla. È troppo forte. Troppo forte sta scopetta di merda. Eh ma vaffanculo! Che palle! Ti ho messo mezz'ora ad ammazzarti lo scudo di vino. Tu me lo giochi così? Tra l'altro uno discoverato eh. Dal primo giorno di scuola. Ciao Maiotta! Qua va giocata Roccara. Sì io sto pensando di giocarle insieme no? Ma non ci arriverò mai. Turno 5. Sono già morto di sto passo. Qua è Roccara. Scopetta e via. Prossimo turno abbiamo l'arma. Pepo G. Pepo G. Pepo G. Così lui comunque si deve appoggiare a qualcosa per ammazzarmelo. Io devo sperare di riuscire a prendere board control. Se io setto arma e lui ha solo due pezzi è god. Perché poi abbiamo le lezioni di taglio, l'ancoratore è fatta. Oggi Legend ho tempo fino a mezzanotte. Purtroppo perché poi salta la season. Ovviamente ci provo. A noi questo va benissimo. Ovviamente ci provo a farlo oggi. Se no raga c'è anche stanotte. C'è ovviamente l'idea è quella sì di fare Legend ovviamente. Qua è minchia. Più forte è questo. Il posto non posso giocare a un'ancoratore doppio. Se non ha modo di rimuovermi questo è fatta. È fatta. Ragnarok. Grazie per i 22 mesi manni. Grazie mille. Intanto io segno. Vi devo altri 7 giri. Grazie mille amico mio. Buongiorno Poli. Mi sono perso il pack opening stamattina. Come è andato? Molto bene. Molto bene. La media è molto alta. Oh mio Dio. Oh mio Dio zio. Hai perso. La media è molto alta. Cioè è molto alta. 18 boost per una leggendaria. Però ne ho trovate due dorate. Vabbè questo non attiva frenesia. Mamma che cazzo me ne frega. G dai è vinta. No vabbè lui non riesce a tradare con Minagwai. È finita. 5.86 è buono. Calcolate che la media esatta è una leggendaria ogni 20. Una leggendaria normale ogni 20 bustine. Se voi trovate una leggendaria dorata in 86 bustine e altre 4 siete sopra la media perché una dorata ovviamente vale il doppio no? Ma raga ma lui ha perso. Un altro sommozzatore? Vediamo se esce Rokara. Niente Rokara. Sarebbe stata assai forte Rokara. Sarebbe stata assai forte la Rokara. Ma quanto cazzo pesca sto mazzo? Quanto cazzo pesca sto mazzo? Quanto cazzo pesca sto mazzo di merda? Bravo. Giobbo merda mazzo di merda. Bazzo grazie amico mio per il Prime. Benvenuto signor Bazzo. Grazie per il supporto. A quanto siamo? Mancano 12. Perfetto. Grazie Bazzo. Grazie mille. Gentilissimo benvenuto nel canale. Punto esclamativo Telegram ovviamente se vuoi il gruppo. E per sapere le regole dell'evento. Punto esclamativo Ruota. Vale la pena fare ETC qua? Fa un po' di danni ETC. Fa un po'... Cioè potrebbe essere Little mi sa eh. Mi sa che è Little di ETC sì. È Little è Little. GG 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 Fortissimo. Fortissimo. Chico come hai sbustato che tutti continuano a citarti. Quante leggende hai trovato Chico? Tu che continuano a citarti in chat. Oh mio Dio! Devo fare un comando per il Pog Slide. Devo fare il comando Pog Slide. Vi ricordo che con il Pog Slide potete slidare in chat. Potete entrare come se fosse scadito sul... Mi piace la gente che magari non ha idea di cosa sia il Pog Slide e non... E vede solamente scritto Pog Slide, Pog Slide, Pog Slide. Divertente. Sarebbe divertente. Sarebbe divertente. Un po' come l'Hunter, no? 7 leggendari in 21 buste. Non ci credo neanche se ti vedo Bruno. Che cazzo dici? È tantissimo. È tantissimo man. Io c'ho una mano di merda proprio contro quello control. Sarebbe proprio che l'Hunter sia divertente. Che mano di merda, regà! Che mano di merda! Oh, che schifo! Pog Slide, Pog Slide, Pog Slide. Eh, Zulok invece no. Dai. Almeno è Zulok. Sì, ma io c'ho una mano del cazzo, eh. Sarà anche Zulok, ma io c'ho una mano di merda. Sarà anche un Zulok, ma io c'ho una mano del cazzo. Rossi Odoro che cazzo devo fare? Mazzo del caos dorata. Poison... Ma che cazzo gio... Ma Zulok non si intende che devi giocare bestia, amico mio! Hai Misunderstato! Vabbè, cazzi tuoi. Ma un bel... No, eh. Tutta merda. Pepo G? Pepo G? Una dieta ricca di stronzi. Ma lui cosa sta facendo, regà? Prossimo turno io vi sa che gioco... Attacco e setto ascia. C'ho una mano veramente brutta, regà. È molto mid. Però è molto bello sto Tempo Warrior, eh. Molto bello questo Tempo Warrior. Mi ricorda tanto quello vecchio, ma pesca di più. È meno aggressivo, perché ovviamente non ci sono i Charger, i Corcoron, i Roy, ma... È molto più... Più solido. 12 leggendari in 100 buste, Pepo G? Porca troia! Borco Diaz, man! È altissimo 12 leggendari in 100 buste. È altissimo. Ecco, lui ha fatto un turno di merda. Mi sa che dobbiamo prenderne vantaggio. Non lo posso prendere vantaggio. C'è setto l'arma. Che vabbè. Non giochiamo contro Mortal Coil. E via. È la madò! 13 giri di ruota, vi devo. Sto sognando. Quanto siamo? Mancano sette sub al primo traguardo. Incredibile. What? 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 Spe, spe, spe. Ok, OP. Questo OP. Guarda! Guarda quanto pesca sto mazzo! Guarda, qua c'è ancora due card draw qui dentro. Doppia cutting class. Ah, è scena sto mazzo. Poi questo è OP. Nazar, grazie per le cinque sub. Benvenuti a tutti. Grazie. Giobbo merda. Eh? What? Cosa? Mazzo della pazzia? Grazie Nazar. Benvenuti a tutti i cinque. Grazie anche a Goldzilla. Wow! Grazie Goldzilla. Benvenuto. Bentornato, anzi. Vi devo 14 giri. Grazie Goldzilla. Bentornato. Grazie davvero tanto per il supporto. Ma è l'Ital? Boni, eh. Aspetta che sto contando l'Ital. Sto cercando il modo figo per trovare l'Ital. Sto cercando il modo figo per l'Ital. Per i trofei. 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 Per i trofei, regà. Per i trofei. Per i trofei. Questo è d'altro. Possible? Per i trofei. 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 Per i trofei.